Risparmiare 50 mila euro nell'arco di 10 anni è il risultato che si può raggiungere grazie a interventi di riqualificazione energetica della propria abitazione. Il risparmio medio in bolletta sarà dell'80% e si potrà beneficiare delle detrazioni IRPEF del 50%. Un esempio concreto messo in evidenza durante la tappa valtainese del Rochow, condominio ok, risparmiare in casa, istituzioni per l'uso, svoltosi a Verbenno, partner agli ordini degli architetti, degli ingegneri e il collegio dei geometri di Sondrio. In Valtina Valchiavenna ci sono 149.631 abitazioni, il 50,5% delle quali costruite prima del 71. Se si considerano quelle con più di 30 anni, la percentuale sale al 69,1%, quadro che emerge dall'analisi del centro studio Utrade. In 10 anni si recupera completamente l'investimento e per gli anni successivi si possono avere risparmi di almeno 2.500 euro all'anno che, capitalizzati in 30 anni, garantiscono un rendimento dell'investimento che è quattro volte superiore a quello che danno attualmente i BTP a 30 anni. Un investimento sicuro soprattutto perché nei muri di casa propria. Questi interventi si possono fare con tecnologie che oggi sono anche non invasive per cui si può intervenire anche continuando ad abitare nell'abitazione. Quasi il 30% delle famiglie in provincia di Sondrio vive in condominio, un patrimonio edilizio che si può rendere meno energivoro. Sono tante le possibilità di intervenire nei condomini, la più importante senz'altro è quella dal punto di vista del risparmio energetico e le possibilità di risparmiare sono effettivamente proprio notevolissime perché oltre ai benefici fiscali del 50% della spesa in 10 anni si va a risparmiare il 50% dei consumi anno per anno. Si può intervenire sostituendo il serramento, realizzando un capotto esterno, ove non possibile si possono realizzare anche i capotti interni dove le costruzioni di pregio non permettono un intervento esterno. I rinforzi strutturali sono da pensare in abbinamento anche agli interventi di recupero energetico dove ove si voglia intervenire è possibile anche consolidare una struttura. 2.500 gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione annui in media in provincia di Sondrio. Fondamentale trovare le risorse necessarie anche attraverso finanziamenti. I finanziamenti che il condominio può richiedere sono tutti i finanziamenti che riguardano le opere straordinarie di manutenzione, quindi dalla centrale termica, dalla contabilizzazione, dalla ristrutturazione edili e ascensori sostanzialmente. La durata va da 18 a 60 mesi, alcune banche che ultimamente escono anche addirittura a 10 anni.